Sono una tragica fatalità. È questa la conclusione a cui è arrivata l'inchiesta aperta dalla procura di Vicenza sulla morte di Traian Popa, 48enne boscaiolo romeno, ucciso martedì dalla caduta di un albero mentre eseguiva lavori di disbosco. Stando alle perizie dunque non si è trattato di imperizia né imprudenza, tutte le operazioni infatti risulterebbero fatte secondo le norme nel rispetto dei dispositivi di sicurezza. Se la linea dei magistrati inquirenti sarà confermata, l'accusa di omicidio colposo nei confronti dei datori di lavoro sarà archiviata e con il nulla osta la salma verrà messa a disposizione dei familiari per la sepoltura.